... adesso, quindi persone che vanno a dialogare con persone vere all'interno dei modi della percezione che mettono contenuti rilevanti in un interno dei giusti canali lo stesso messaggio viene, una logica pressmediale, frammentato in linguaggi differenti per media differenti trovo su Twitter, diventa un messaggio di cellulare di carattere su YouTube un video che è proposto su blog che aveva da tre anni e mezzo circa lo ha preso, lo ha buttato nel cestino e ha detto ragazzi chi ha fatto questo messaggio? e c'era lì in più ho finanziato anche l'animazione del costale della ricordia, ha una sensazione di spedio che non ha più un altro ragazzo grazie a tutti grazie a tutti